Adesso voi mi dovete spiegare perché la vostra pasta è così buona. È il metodo De Cecco. Usiamo solo il cuore del grano migliore. Il cuore? Rigorosamente. Macinato nel nostro mulino. Semola a grana grossa. Rigorosamente. E impastata con acqua fredda. Con acqua fredda? Per la famosa tenuta in cottura di De Cecco. Essiccazione lenta e a bassa temperatura. Per la pasta lunga 18 ore, per alcuni formati 36. Profumo il colore del grano. Che buona questa pasta. È De Cecco. Rigorosamente. Di De Cecco ce n'è una sola.